La più imbrattata. La più imbrattata. A poco meno di un anno, dallo scorso episodio, la notte scorsa a Lucrezia di Cartoceto, altre auto sono state danneggiate con la vernice spray per un amaro risveglio dei loro proprietari questa mattina. Almeno sette auto, al momento sono quelle note, sono state prese di mira dal o dai vandali con le bombolette. Fiancate, portiere laterali, cofano e cerchioni, nessuna parte delle auto è stata risparmiata in un esteso sfregio alla proprietà altrui. Esattamente come avvenne la scorsa volta, anche la zona è sempre la medesima. Via Kennedy, Via della Vittoria e strade e parcheggi adiacenti. Ora presunta del ride vandalico compreso tra le 11 e la mezzanotte. Unica variante rispetto alla volta scorsa, il colore usato. Dal verde siamo passati al grigio cenere, che sul nero sembra azzurro, come mostrano le immagini di una Dacia Duster nera presa di mira. Colore più evidente invece sulla Punto Bianca e sulla C3, sempre colpita anche per la seconda volta. Le altre auto scribacchiate dai vandali, oltre ad un'altra Fiat Punto, è un Audi A3, una Peugeot 206 grigia ed una Ford color bronzo. Le denunce raccolte in giornata dai carabinieri di Cogli al Metauro sono due e verso ignoti, per danneggiamento. Ora i militari, coordinati dal comandante Antonello Pannaccio, stanno valutando riscontri e possibili indizi. Purtroppo il ricorso alle immagini non è possibile, dato che nella zona non esistono telecamere pubbliche installate per la videosorveglianza e quelle dei privati sono giustamente posizionate sulla proprietà privata. La pena alla quale questi vandali vanno incontro si configura nell'articolo 639 del Codice Penale, danneggiamento ed imbrattamento di cose altrui e nel caso di mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi.